Mal tempo con precipitazioni record ancora su Lignano dove sono caduti più di 110 mm su tutta la bassa friulana, eccezionali allagamenti di strutture pubbliche e private, domani tregua con il sole e poi pioggia fino a domenica. Dieci giorni fa si era già fatta vedere sulle Alpi Carniche, nelle ultime ore ricomparse sulle Alpi e Prealpi Giulia e la neve che ha imbiancato la scorsa notte la cima dell'Ussari. Il brutto tempo ha ostacolato oggi le ricerche del pensionato di Treppo Carnico, del quale non si hanno notizie da venerdì, domani saranno utilizzati due droni, uno con la termocamera e un secondo della polizia locale di Udine. Lietto fine per la piccola che non era stata fatta entrare all'asilo di Latisana per la mancanza delle certificazioni vaccinali, oggi la situazione si è risolta, l'assessore Telesca, bene così la madre ha preso appuntamento per vaccinare la figlia. La penna di Fulvio Comini e la matita di Pierfanko Fabris hanno creato la città dipinta che racconta il Canal Grande, composto dagli imponenti palazzi che si affacciano sui corsi del centro portenonese. Buonasera, buonasera cari telespettatori e telespettatrici, grazie come sempre per aver scelto l'informazione di Telefriuli. E' andata avanti per buona parte della giornata l'ondata di maltempo e le temperature che si sono ulteriormente abbassate, la regione è stata interessata da un fronte freddo che si è concentrato in particolare su bassa friulana e costa. Nel pomeriggio è arrivato il vento che ha favorito la stabilità e il bel tempo per la giornata di domani, in ogni caso per le prossime ore la pioggia continuerà a cadere, sui monti oltre ai 1600-1800 metri è previsto l'arrivo della neve, ma ne parleremo più tardi. Una situazione di emergenza che ha visto ancora una volta particolarmente impegnati i volontari della protezione civile e i vigili del fuoco per allagamenti a Lignano-Sabbiadoro, a cui fanno riferimento le immagini. A Latisana, in particolare nelle zone di Bevazzane e Aprilia Marittima, a Marano, Lagunare, Carlino, Torviscosa, in località Malisana. Nelle ultime ore, pensate, sono caduti a Lignano, e queste sono ancora le immagini, ringraziamo i nostri telespettatori che ce le hanno inviate, sono caduti 110 mm di pioggia. Per un aggiornamento puntuale dell'ultimo minuto, in studio è arrivato il direttore regionale della protezione civile, che ringrazio per la presenza, Luciano Suli. Buonasera, Suli. Buonasera. E allora, intanto, lei sicuramente avrà dei numeri da fornirci, molti volontari impiegati. Sì, come sempre, la risposta dei nostri volontari è immediata. A Lignano, perché sostanzialmente il grosso delle attività è stato fatto a Lignano, abbiamo avuto una numerosa presenza di volontari, del gruppo di Lignano, ma anche di altri comuni. In totale, per questa ondata di maltempo, abbiamo avuto 156 persone dislocate sul territorio, con mezzi, con idrovore soprattutto, con motopompe, per liberare scantinati. Perché questo è stato il danno più diffuso. Qualche albero, ma in linea di massima, soprattutto scantinati, quindi zone in quote più basse rispetto alla strada. Quindi una presenza della nostra protezione civile, come sempre, è all'altezza della situazione. Ecco, le chiedo, adesso per fortuna è uscito il sole, adesso c'è un po' di tregua. Adesso sì, per fortuna le cose stanno migliorando, anche per la notte non sono previsti eventi che possano determinare situazioni problematiche. Domani è previsto, come dicevate anche voi, nella presentazione è previsto un po' di miglioramento, per cui la cosa dovrebbe risolversi. Con Sully parleremo anche più tardi di altri due argomenti, ma in maniera molto rapida. Il NUE ha funzionato? Allora, in queste situazioni, come potrete immaginare, al numero unico delle emergenze, l'1-1-2, arrivano tutte le chiamate di soccorso. In questo caso riguardano soprattutto il soccorso tecnico, cioè i vigili del fuoco. Noi quando diramiamo un'allerta provvediamo a incrementare il numero delle persone in sala, proprio perché prevediamo un aumento delle chiamate. Da mezzanotte alle 12.30 abbiamo avuto 891 chiamate, in grossa parte della bassa pianura, quindi Lignano, La Tisana, i comuni che abbiamo visto. Il picco si è registrato dalle 9 alle 10.30 con 220 chiamate. Una cosa interessante delle chiamate al NUE, che noi le vediamo sul video wall, è che ci permette di visualizzare proprio le località dove gli eventi sono più intensi. Perché questo visivamente ci dà l'idea da dove arrivano le chiamate e quindi dove ci sono i problemi più grossi. Sully rimanga con me, io vado avanti con il giornale e poi ho ancora due domande. La webcam di Promo Turismo FWG ha catturato la prima nevicata che in queste ore sta imbiancando la cima dell'Ussari. L'ingresso dell'aria fredda è in quota, ha trasformato la pioggia in neve in queste ultime ore sopra i 1700 metri. Il fronte freddo in transito ha rovesciato sulla regione, piogge abbondanti, lo abbiamo già detto, variabili tra i 25 e i 65 mm tra i monti. La situazione più critica è ancora in corso, dicevamo, a Lignano sabbia d'oro. Se avremo degli aggiornamenti ve li forniremo in tempo reale. Il maltempo di questi ultimi giorni segna definitivamente la fine dell'estate e l'arrivo dell'autunno. Sentiamo Marco Virgilio, il nostro previsore. Buonasera, non siamo a Natale ma è la situazione di oggi. Oggi il fronte freddo che aspettavamo ha portato anche delle nevicate in montagna, non solo delle nevicate in montagna. Qui siamo nella fase pomeridiana con l'ingresso dell'aria fredda, Monte Accomizza ma anche Lussari, insomma abbiamo un po' di immagini da mostrare, con la nevicata che ha imbiancato sopra i 1700 metri. In realtà qualche rovescio nevoso si è visto anche a quote più basse. A parte la neve è stata una giornata abbastanza campale per il nostro litorale con piogge molto intense sulla zona di Lignano, tra Bibione, Lignano, Marano, lì si sono state piogge veramente intense, Lignano oltre i 110 mm ma oltre i 60 anche la zona di grado. Ha piovuto tanto anche all'interno, tra i 25 mm gli estremi e i 60, piogge che sono state comunque continue durante la giornata, poi siamo andati verso un miglioramento. Volevo ricordare che il miglioramento ci sarà e ne parleremo dopo più estesamente nelle previsioni del tempo, ma durerà poco domani perché siamo ancora in vista di fasi perturbate e una in particolare, quella che attira di più l'attenzione, sarà quella relativa alla giornata di sabato, un po' da monitorare perché lì potrebbe piovere molto intensamente. Insomma un mese dinamico con fatti importanti dal punto di vista atmosferico. Arrivederci. Grazie a Marco Virgilio, tre persone sono state arrestate nell'area transfrontaliera goriziana al termine di indagini condotte dalla polizia di Nova Gorizia e i carabinieri di Duino Rosina sullo spaccio di cocaina, anfetamina, cannabis e sostanze anabolizzanti, legali a clienti sloveni e italiani. I tre arrestati sono cittadini e sloveni. All'operazione hanno partecipato 70 poliziotti della Slovenia, unità cinofile e carabinieri. Sono state interrotte intorno alle 13.30 alla ricerca del disperso di Treppo Carnico di cui non si hanno più notizie da venerdì pomeriggio. 48 i tecnici impegnati tra uomini del soccorso alpino, tecnici della Guardia di Finanza e di Sela Neve e Tolmezzo, i Vigil Fuoco, coordinati dal soccorso alpino di Forni a Voltri. Sul posto anche tre unità cinofile. Oggi la perlustazione è avvenuta sotto forti e rovesci di pioggia. A partire dalle 7 è stata battuta tutta la zona compresa tra il ponte d'accesso al paese di Treppo e il campo sportivo di Paluzza in tutta una cinquantina di ettari. Purtroppo non si è potuto impiegare il drone proprio a causa delle forti piogge. Domani mattina le ricerche riprenderanno a partire dalle 7, confidando nell'annunciata pausa della perturbazione. Sarà utilizzato un drone con termocramera e si aggiungerà al dispositivo della Polizia Municipale di Udine. Inoltre sarà nuovamente impiegato l'elicottero della protezione civile. Incidente in autostrada tra un furgone e un mezzo pesante tra San Giorgio di Nogaro e La Tisana in direzione Venezia questa mattina verso le 10 e subito si sono formate code chilometriche in A4 a 23. Sono 11, infatti, chilometri di coda tra Villesse e La Tisana in direzione Venezia e due in A23 tra Udine Sud e il Bivio con l'A4 che si sono creati in mattinata. Immediate le ripercussioni sul traffico, già molto sostenuto dalle prime ore del mattino, anche a causa delle fitte piogge. Si era finto prima un porno divo, poi un ciclista sul web per riuscire a chattare le sue beniamine, tra cui la friulana Irene Caos, scrittrice pordenonese di libri erotici, e la biondissima Justin Matera. Aveva rubato l'identità ai due personaggi e per questo un 27enne di Messina è stato condannato a un anno e otto mesi di carcere dal giudice dell'ottava sezione penale di Milano, Luisa Balzarotti. Giovedì alle 11 a Tolmezzo verrà presentato il nuovo comandante della compagnia carabiniera del capoluogo Carnico, si tratta del capitano Diego Alessandro Tanzi, in arrivo dalla tenenza di Oderso. L'ufficiale subentra il parigrato Stefano Bortone, destinato alla guida dei carabinieri di Palmanova, del quale abbiamo dato notizia proprio ieri. Ed è stata accolta regolarmente in asilo a Latisana, la bambina che ieri era stata al centro di un caso legato alle certificazioni vaccinali. Aveva destato scalpore la notizia di una mamma che ieri mattina si era rifiutata di compilare, dopo diversi richiami da parte della scuola, l'autocertificazione per attestare la copertura vaccinale della figlia, iscritta a una scuola dell'infanzia di Latisana. Dopo aver chiamato carabinieri e polizia locale fuori dall'asilo, la donna ha ottenuto che per quel giorno la figlia venisse comunque accolta, anche se sprovvista della documentazione richiesta per legge. Questa mattina la piccola è stata nuovamente accolta all'asilo perché il legale della mamma ha presentato la cartolina di invio della raccomandata, con cui la signora ha chiesto un appuntamento all'azienda sanitaria per la vaccinazione della figlia. A confermare la notizia, il sindaco di Latisana Daniele Galizio, che sottolinea che a questo punto c'erano gli elementi per accogliere la bambina in asilo. La normativa, infatti, prevede che sia firmata l'autocertificazione di avvenute vaccinazioni o prodotta la prova di aver chiesto un appuntamento all'azienda sanitaria per mettersi alla pari. Bene il regolare accoglimento in asilo della bimba di Latisana, per la quale la madre ha inviato la raccomandata, che comprova la richiesta di un appuntamento vaccinale. Questo è il commento sul caso dell'assessore regionale a salute e integrazione socio-sanitaria Maria Sandra Telesca. In generale ha aggiunto l'assessore, il lavoro di informazione su un tema così importante sta procedendo bene, con l'intento di applicare la legge senza creare disagi ai genitori. E a Paziano di Pordenone, invece, un bambino straniero è stato rimandato a casa dall'Istituto Comprensivo per non aver prodotto la documentazione obbligatoria. Ma in questo caso non si tratterebbe di assenza di vaccinazioni, ma solo di mancata certificazione. I genitori hanno accettato il provvedimento, spiegando di non essere stati al corrente della norma e di avere intenzioni di regolarizzare la posizione del bambino al più presto. E abbiamo ancora con noi il direttore regionale della posizione civile, al quale ho ancora due domande da porre. Allora, la prima, eravate stati alertati per l'emergenza a Livorno, come è andata a finire? Sì, già nella mattina presto di ieri abbiamo avuto il pre-allerta per la richiesta di organizzarci per partire con alcune squadre. Abbiamo accolto, come sempre, la richiesta e un paio d'ore dopo avevamo due squadre pronte a partire. Poi il Dipartimento ci ha tenuto in stand-by fino ad oggi, primo pomeriggio, dove ci ha comunicato la liberatoria da questo impegno. Concludendo, in 20 secondi, venerdì una giornata importante perché lei si recherà a Sarnano. Sì, venerdì saremo a Sarnano a consegnare la scuola dell'infanzia. È la prima scuola ricostruita a carattere definitivo nell'area del cratere, a tempi di record, progettata da personale a protezione civile con un paio di consulenze esterne, insomma, con imprese del Friuli. Quindi il Friuli, ancora una volta, si conferma molto generoso nei confronti di chi oggi ha subito quello che noi abbiamo subito 40 anni fa. Direttore, a presto. Arrivederci. La richiesta di fare piena luce sui fatti che hanno portato alla morte di Giulio Reggeni non arriva solo dai suoi familiari, dai colleghi, dagli amici. È un'esigenza profondamente avvertita nel nostro paese che ho ribadito oggi all'ambasciatore Cantini nella piena consapevolezza della delicatezza del compito che gli è stato assegnato. Sono le parole del Presidente del Senato Pietro Grasso. Al termine dell'incontro avvenuto oggi con l'ambasciatore Gianpaolo Cantini incaricato di rappresentare la Repubblica Italiana in Egitto. Da oggi fino al 24 di novembre è possibile iscriversi al bando per partecipare a Coop Startup FWG, progetto promosso da Lega Coop, FWG e CoopFond con l'obiettivo di accompagnare lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative avanzate da residenti in regione. Se in Friuli, Venezia e Giulia ci sono solo 104 mila occupati under 35 contro il 152 mila del 2008, non è dovuto soltanto alla crisi ma anche alla riforma Fornero che ha drasticamente ridotto il ricambio generazionale. Quanto ha dichiarato William Pezzetta, segretario generale della CGL FWG, intervenendo al convegno su pensioni e mercato del lavoro organizzato a Trieste dallo SPI CGL FWG nell'ambito della festa di liberetà. Prima campanella oggi per un'innovativa scuola a Pordenone. Vediamo. Una nuova scuola elementare che ha tutto il sapore dell'innovazione e della modernità aperto i battenti a Pordenone. Si tratta della LERN, scuola europea bilingue aperta in via San Giuliano. Gli alunni studieranno con maestre italiane e madrelingua inglese e seguiranno il metodo dell'educazione basata sull'evidenza. Ci saranno le materie principali in italiano, che è italiano, matematica, geografia e storia. Il resto verrà dato in inglese, quindi arte, musica, informatica, tecnologia e inglese. Cerchiamo di avere sempre la stessa linea per due concetti. Uno è l'intelligenza emotiva e due è la ricerca scientifica, nel senso che qualunque metodo che usiamo viene basato sull'evidenza dell'educazione. La scuola è privata, non paritaria, quindi faremo un esame finale per il passaggio dell'anno successivo. Un progetto che ha suscitato anche l'interesse di un'industria a Pordenone unico nel friulio occidentale, accanto al quale si affianca la preschool rivolta ai bambini dell'ultimo anno di materna. Quindi c'è sia l'elementare che parte con la prima, sia i preschool, che sono i bambini che vanno da 4 a 6 anni per prepararli nel percorso dell'elementare. Lì nel momento sono 10, però ci sono tante richieste anche per le prossime settimane. Gli orari sono come una scuola paritaria, una scuola pubblica, quindi dalle 8 alle 16, con prolungamento fino alle 18, con dei laboratori diversi in funzione della giornata. La promozione della cultura della sicurezza in un gesto quotidiano, come quello di bere un caffè. Vediamo. Siamo sempre stati dell'idea che il fenomeno della sicurezza sul lavoro, negli ambienti anche familiari, è un fatto culturale. Quindi riteniamo che sotto questo aspetto ci sia molto da fare per informare prima di tutto e divulgare anche delle buone prassi. Oggi il progetto che presentiamo oggi insieme alla CDA, quindi una collaborazione tra due aziende, Gesteco e CDA, porta a esprimere in maniera sintetica, diciamo, quello che è un nostro modo di vedere, di vedere le cose, soprattutto anche di responsabilità sociale, perché non dimentichiamo che l'azienda è un ambiente dove poi si vive, si lavora tutto il giorno e di conseguenza le buone prassi sono fondamentali per cercare di prevenire quelle che sono le problematiche legate proprio agli infortuni che capitano ovunque, in strada, in casa, in famiglia, in azienda. Tutto nasce da una collaborazione appunto con Gesteco affinché si possa migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Siccome ci sono degli strumenti nuovi, tipo anche la macchina del caffè è diventata uno strumento che si può veicolare dei messaggi di informazione, da un'idea proprio nata da Gruppo Luci, nasce questa collaborazione per questi video che sono chiamati chicchi in sicurezza, che promuovono, ci sono delle collane proprio di video che vanno a sensibilizzare sulla sicurezza aziendale. Noi dobbiamo alzare la stricella affinché veramente ci sia una tutela delle persone nei luoghi di lavoro e che tutti alzino la tensione in questo senso. La BCC Carni Egemonese ha donato all'ospedale di Tolmezzo l'attrezzatura per l'ozonoterapia. È stata dedicata alla memoria di Duilio Cescutti, l'ex presidente della banca di credito cooperativo di Carni Egemonese, scomparso recentemente, il macchinario per l'ozonoterapia donato dall'istituto di credito all'ospedale di Tolmezzo e consegnato oggi. L'attrezzatura, che sarà in grado di generare ozono dall'ossigeno, potrà essere utilizzata per la terapia di varie patologie, in particolare quelle croniche e quelle legate alla terapia del dolore. Per noi questa donazione ha un duplice significato. Da un lato quello di ribadire la vicinanza della nostra banca al territorio, anche con il supporto all'azienda sanitaria. E questo è un sostegno che noi facciamo ripetutamente. Il secondo motivo è proprio quello di ricordare Duilio Cescutti, il mio predecessore, che oltre che presidente della banca è stato un grande imprenditore, un grande carnico, una grande persona. Questa attrezzatura fornisce ai nostri specialisti che lavorano insieme tra di loro in ospedale e con i colleghi che lavorano fuori sul territorio uno strumento in più per poter incidere sul dolore, in particolare sul dolore cronico, e anche a breve sulla presa in carico delle ulcere distrofiche, le ulcere diabetiche, quelle ulcere torpide sugli alti inferiori soprattutto, che sappiamo facciamo tanta fatica a debellare. Questa è una nuova opzione terapeutica che è disponibile ancora in pochi centri. Una mostra e un libro illustrato raccontano il canal grande di Pordenone. Allora, dopo aver scritto la storia di Pordenone, ho pensato che sarebbe stato interessante anche raccontare le storie che si sono avute all'interno dei palazzi della città. L'occasione è stata questa, dei disegni di tutti e due i corsi, fatto dall'architetto Fabris, ed è stata anche l'occasione per ricordare una serie di personaggi che Pordenone ha avuto e che sono stati davvero straordinari. Ho conosciuto Giovanni Santarossa più o meno un anno e mezzo fa perché aveva visto in internet un disegno che avevo fatto per i 500 anni del ghetto di Venezia e gli era piaciuto, gli era piaciuto il modo in cui lo avevo fatto. Mi ha chiesto di fare un lavoro ben più grosso, cioè il canal grande. A questo è seguito poi questo secondo passaggio, ovvero Giovanni mi ha detto Franco, tu hai fatto il canal grande di Venezia, faresti anche il canal grande, quello che consideriamo il canal grande di Pordenone? E perché no? La Presidente Seracchiani ha inviato una lettera al Presidente sloveno Borut Pahor per caldeggiare la candidatura del Collio come patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Segue l'iter per portare il Collio nel cerchio di patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. La Presidente Seracchiani ha inviato una lettera al Presidente sloveno Pahor per la presentazione congiunta della candidatura tra Collio e Berda come paesaggio rurale tra Isonzo e Iudrio. La Presidente lo ha annunciato durante l'incontro svolto a Trieste tra una delegazione dei sindaci del Collio e l'amministrazione regionale. Siccome si tratta di una candidatura trasfrontaliera che coinvolge la Repubblica di Slovenia mi sono attivata, ho scritto al Presidente Pahor e al Ministro degli Affari Esteri Eriavezza per iniziare con loro un dialogo che possa essere utile alla presentazione del dossier per la candidatura. Ovviamente ragionando su un percorso che vogliamo fare insieme e che mette insieme il Collio e Berda per avere appunto questa candidatura trasfrontaliera unica nel nostro paese. Naturalmente dobbiamo avere l'accompagnamento e anche un assenso su questa candidatura da parte del MIBACT che per l'Italia è il soggetto protagonista insieme ai comuni della presentazione delle candidature UNESCO. E quindi iniziamo da lì, iniziamo un percorso appunto di accompagnamento insieme al Ministero e sarà importante che il Ministero ci dia appunto non solo ci indichi qual è l'interlocutore ma ci accompagni esattamente come ha fatto per Palmanova. Un paesaggio rurale è sempre un paesaggio economico oltre che culturale e quindi capire esattamente quali processi economici stanno alla base di questo paesaggio e quali appunto sono in grado di mantenerlo in modo attivo in modo che la tutela sia una tutela attiva, non una tutela passiva è parte integrante del riconoscimento del bene e soprattutto di quello che del bene vogliamo fare ereditare ai nostri figli e ai nostri nipoti. Gerati oggi, gli ospiti VIP che arricchiranno il programma di Gusti di Frontiera in programma a Gorizia da giovedì 21 settembre. Venerdì abbiamo la presentazione del ricettario milteleuropeo della sua Antonia Orsolina è un famoso ricettario che ha scritto in tedesco la ricetta originale e poi tradotte dialogheremo su questo ricettario con Adriano Ossola che è il presidente della LEG, la casa editrice che l'ha stampato insieme agli esperti del vino e dei ristoratori locali che potremo proprio dialogare su come abbinare e come cucinare questi prodotti. Chiuderà la giornata di venerdì Bruno Pizzul che ci racconterà attraverso la sua inconfondibile voce tutte le esperienze di cibo che ha fatto nel mondo e per poi raccontare anche il cibo della nostra terra. La giornata di sabato, l'intervista sarà fatta da Kabila Raddovic e intervisterà Emanuele Scarello che parlerà insieme con Davide Paolini proprio su come si è trasformata questa figura dello chef attraverso i media e la comunicazione. La giornata di sabato viene chiusa con un altro grande ospite che è Gianfranco Vissani proprio perché chiude questa giornata perché si vuole parlare con lui di come la vede lui, lui era già famoso a livello mediatico quando non erano ancora nate nessuna di quelle trasmissioni che ormai fanno banco. Andiamo alla Tisana dove sono stati annunciati a Udine i vincitori del 24esimo premio letterario La Tisana per il Nord-Est. La Tisana per la Tisana per la popolare è una rassegna nata nel 1994 su iniziativa del comune di La Tisana con l'intento di rendere merito a scrittori dell'area Friuli-Venezia-Giulia, Triveneto, Slovenia, Austria e Croazia nonché ad autori di opere ambientate in queste aree al fine di implementare la conoscenza fra popoli della Mitteleuropa anziché nel consueto mese di dicembre questa 24esima edizione è stata anticipata ai primi di ottobre con un ampliato calendario di iniziative. Daniela Lizzi, Assessora alla Cultura di La Tisana Quest'anno il premio letterario è molto diverso con grandissime novità le novità proprio recentissime sono quelle che abbiamo aggiunto altri eventi aspettando il premio quindi abbiamo la premiazione il 7 ottobre, il proseguimento il 13 ottobre ma abbiamo anche degli eventi aspettando il premio che li abbiamo inseriti nell'altra grandissima manifestazione che è alla 24esima edizione anche quella di Settembre Doc La Tisana abbiamo voluto coniugare l'enogastronomia con la cultura quindi abbiamo unito arte, gusto e cultura e letteratura in un unico scenario che quindi renderà partecipare la Tisana di eventi che si completeranno nel giro di un mese quindi la Tisana vivrà di cultura, di enogastronomia, di territorio, di prodotti del nostro territorio quindi di promozione in tutti i modi per quasi un mese e andiamo pure con la vignetta di Fernando Venturini Veloci appuntamenti nel weekend per l'atletica leggera regionale con le gare di Gorizia e Trieste eccezionalmente invece il trofeo Città di Maiano si è tenuto a Gemona Il 26esimo meeting trofeo Città di Maiano quest'anno si è svolto in via del tutto eccezionale a Gemona del Friuli a triunfare nelle gare di atletica leggera è stata la rappresentativa delle Marche superando Padova e Belgrado domani alle 18.15 tutti i risultati su start con Renato Bonin ma nel weekend si è gareggiato anche a Gorizia con il tradizionale Memorial Marche in Menea Day lì Giada Andreuti si è confermata ad alti livelli piazzando tre lanci del disco oltre i 54 metri Enrico Sancin ha invece intascato il sesto record regionale personale correndo ai 200 metri piani in 22 e 33 Il Menea Day ha visto protagonisti Alessandro Iuric per gli uomini e Mara Lavrencic per le donne positiva anche la prestazione di Marilena Visentin nel disco Leonardo Feletto e Jacopo De Marchi nei 3.000 Gabriele Cernigoi nei 110 ostacoli e Simone Biasutti nel salto in alto A Trieste invece doppio appuntamento con in mattinata il nono Memorial Crasso di Marcia valido anche per il campionato regionale di marcia su strada mentre nel pomeriggio al Grezzar si è svolto il Triveneto Meeting in gara condizionata dal meteo avverso Anche lì Enrico Sancin ha spiccato con un ottimo 9,14 negli 80 metri piani Prossime gare in pista il 16 e 17 settembre a Udine con i campionati della Tedica Malignani-Liberta-Sudina-Lievi e a Spilimbergo con le prove multiple cadetti Bene abbiamo terminato, grazie come sempre per la vostra cortese e fedele e attenzione adesso il nostro Luca Fornasiero può mandare la sigla di chiusura Buona serata Grazie a tutti